Un boato poi silenzio. L'auto guidata da un 83enne residente a Montebelluna è uscita di strada finendo la corsa contro il muro di cinta di un'abitazione. I residenti sono usciti immediatamente cercando di prestare i primi soccorsi all'anziana. La vettura una Fiat Panda sembra procedesse da Fanzolo verso Altivole. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 14.30 lungo via Spada a Fanzolo di Vedelago. Immediatamente la gente ha allertato i vigili del fuoco e del suo M118 che è arrivato sul posto anche con l'automedica. La donna è stata immediatamente soccorsa. I medici hanno tentato di tutto per strapparla alla morte. Purtroppo per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. I testimoni raccontano di aver visto l'auto tutta ad un tratto uscire di strada autonomamente. L'anziana, Prasede Martignago, potrebbe essere stata colpita da un malore. La strada è stata chiusa per consentire il soccorso dell'83enne. I rilievi del gravissimo incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale di Vedelago. Fra l'altro in via Spada non è il primo incidente mortale, è il secondo grave incidente. In poco tempo spiega il sindaco di Vedelago, Cristina Andretta, una strada dove il traffico è aumentato soprattutto negli ultimi tempi.